E passiamo alle note dolenti del Gran Premio di Monaco a Monte Carlo, ovvero quelle del Ferrari. Allora, io dico ancora una volta che anche in questo weekend purtroppo il risultato negativo, perché ci si aspettava anche qui qualcosa di più, è di peso purtroppo dell'errore umano. Perché? Perché il primo errore umano è partito dalla qualifica del sabato con l'Eclerc che in pista ha guadagnato il terzo posto e poteva essere, e sicuramente è stato, visto quella che hanno combinato Verstappen e Alonso che erano stati inarrivabili, Alla sabato aveva conquistato un'ottima terza piazza che poteva significare molto per le Ferrari e per l'Eclerc che deve assolutamente sfatare questo tabù Monte Carlo. È vero che mi pare fosse la prima volta che finisce la gara, comunque la finisce così avanti, ma che non è così una prestazione positiva. Dispiace, perché questa volta non è colpa di Leclerc, se finisce dove è finito, ovvero sesta posizione è finito anche davanti a Sainz, un errore dovuto al sabato, perché è stato retrocesso. Di tre posizioni sulla grilla di partenza, perché per impeding ha Norris dentro la galleria prima della chicane del porto. Un errore dovuto a una mancata comunicazione da parte del team che deve avvisare il proprio pilota quando deve scansarsi, perché l'Eclerc era nel giro di raffreddamento e dunque stava rientrando, o comunque non stava facendo il tempo sul giro, mentre Norris che arriva dietro sì e lo ha impedito di terminare il giro e dunque giustamente è stato penalizzato. Quindi, primo errore romano. Secondo errore romano, ragazzi, è nella gara di domenica in cui, quando è caduta la pioggia, nel team di Maranello sono stati a dormire letteralmente, perché, ve la faccio molto molto breve, sono entrati entrambi i piloti ai box, si sono susseguite i pit stop, perdendo sicuramente tempo, soprattutto a Sainz, e buttando la gara, buttandosi dietro le Mercedes. Altro errore romano è stato quello di Sainz, che magari potrebbe avere, ah, sicuramente la scusante del bagnato su un circuito così cittadino, con la gomma gialla su bagnato, ha fatto un errore scivolato al marebo alto prima del tornantino, e si è fatto sfilare anche da Leclerc, un errore, sì, del pilota, ma indotto appunto da questo errore strategico. Secondo me, inconcepibile, è stato quando Sainz, al giro 13, mi pare, ha tentato un sorpasso nei confronti di Ocon, danneggiando, lascicando il porto, danneggiando l'allettone, è una scelta inspiegabile, perché al tredicesimo giro dei 79 previsti, è vero che era attaccato a Ocon? È presto! Non rimangono pochissimi giri, è stato un rischio inutile da correre, infatti l'ha corso, poi per fortuna sua non è stato costretto a rientrare, a sostituire l'allettone anteriore. Io dico soltanto, mi verrebbe solo da dire alla Ferrari, vedete che dovete fare, perché così non si può andare avanti. Non solo la macchina non gira, ma se poi ci si mette anche l'errore umano, che sì, può accadere, ma tre errori individuati in questo weekend, davvero non è cosa, come dicono in alcune parti del meridione italiano, ma al di là di questo io reputo il weekend della Ferrari assolutamente negativo, mi dispiace perché, mi dispiace per Leclerc, onestamente, perché questo weekend ha affaticato tantissimo con una macchina che, boh, sia sul bagnato che sull'asciutto ha dimostrato di far fatica a tenere il ritmo di chi è davanti ad oggi a loro, ovvero le due Red Bull, le due Mercedes e una delle due Aston Martin.